Correttezza, linearità e fair play. Queste le tre parole chiave del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibiglia, chiamato a premiare le società della provincia di Salerno vincitrici nella stagione 2018-2019. La cerimonia, tenutasi nella sala convegni del San Giuseppe Resorto a Salerno, ha visto come protagonista proprio l'attuale numero 2 della federazione italiana gioco-calcio, insieme ad altri ospiti di spessore come Renzo Faccenda, il presidente del comitato regionale arbitri campano, Virginio Quartuccio, Nello Talento del CONI e il presidente del comitato regionale della FIGC, Carmine Zigarelli. A precedere la premiazione, l'intervento dei dirigenti campani ha dato modo a tutte le società in sala di comprendere i valori e le proposte della Lega Dilettanti in ambito provinciale e regionale. Evidente è il forte legame esistente tra tutti i relatori, che Renzo Faccenda rappresenta il coronamento dei suoi 57 anni di carriera da compiere il prossimo febbraio. È importante infatti che ci sia unità di intenti nel perseguire una strada comune che comprenda le necessità di tutte le parti in causa. In questo senso è intervenuto Virginio Quartuccio, che da ex arbitro internazionale ha manifestato quanto sia fondamentale la cultura sportiva del rispetto e della lealtà. Dati positivi giungono proprio dalla campania, in cui il tasso di violenza nei confronti dei direttori di gara è tra i più bassi d'Italia. Nei campionati in corso non sono infatti arrivate segnalazioni di antisportività da tutta la regione, per la gioia del presidente Quartuccio e di tutti gli appassionati di calcio. Per quanto riguarda la provincia salenitana, ha preso invece la parola il presidente Zigarelli, manifestando quanto sia stato complicato compilare i gironi di prima e seconda categoria. Le difficoltà logistiche e di viabilità per le trasferte hanno dato infatti il filo da torcere ai dirigenti, che sono tuttavia riusciti a mettere in piedi un programma di tutto rispetto, andando incontro alle tantissime società della provincia iscritte ai campionati. A questo proposito ha concluso la fase degli interventi proprio Cosimo Sibilia, che ha sottolineato quanto sia stata importante l'esclusione della tassa di iscrizione per la partecipazione al campionato di terza categoria, permettendo così anche alle società del settore giovanile di aprirsi al mondo delle prime squadre. Sibilia ha evidenziato tutto il suo impegno da quando ha ottenuto l'incarico di presidente della Lega Nazionale di Lettanti, anteponendo sempre gli interessi delle società a quelli personali. Da Avellinese ha poi sottolineato quanto fosse contento ed orgoglioso di manifestare i risultati della propria regione, soprattutto quelli sul piano disciplinare, perché in fondo il calcio è un sport di inclusione e rispetto, ed è questo quello che conta al di là della consegna di un trofeo.